Si chiama EcoRent ed è un'iniziativa promossa da Trenitalia e dall'azienda di autonoleggio Maggiore Rent, sotto il patrocinio di Roma Capitale, assessorato alle politiche ambientali e del verde urbano. È il nuovo progetto che dal prossimo primo dicembre permetterà ai clienti dell'alta velocità in arrivo a Roma e a Milano di muoversi responsabilmente anche all'interno delle due città. EcoRent è infatti una formula ecologica di noleggio a impatto ambientale zero, pensato dalle due aziende per garantire un viaggio treno più auto a totale trazione elettrica. Il personale maggiore consegnerà le chiavi dell'auto elettrica Peugeot Ion, che ha un'autonomia di 150 chilometri, al cliente Trenitalia direttamente ai binari di arrivo delle frecce. Le vetture si troveranno infatti in appositi parcheggi situati in via Marsala a Roma e nelle adiacenze della Galleria delle Carrozze a Milano. Le tariffe oscillano dalla formula oraria, 8 euro, a quella giornaliera, 48 euro, e settimanale, 192 euro, con pagamento presso l'agenzia maggiore, mentre è previsto uno sconto del 5% in caso di prepagamento in fase di prenotazione. Tutte le tariffe comprendono chilometraggio illimitato, prima ricarica, limitazione quote a debito danni e furto, oneri ferroviari, amministrativi e automobilistici. Chi prende la freccia rossa, quindi un treno ad alta velocità, poi ha degli sconti particolari per noleggiare un'auto elettrica da maggiore. Per cui si prende il treno e quindi è impatto zero, poi si scende dal treno e si noleggia un'auto elettrica e quindi è tutto il viaggio completamente a impatto zero e credo che per la città di Roma questa sia una grande e bella iniziativa. Questa iniziativa parte da un'esigenza dei cittadini, vi è stato proprio richiesto un servizio del genere? Questo servizio parte appunto da un'esigenza che credo che i cittadini e i viaggiatori di Trenitalia abbiano espresso a Trenitalia. Anche Trenitalia è in prima linea per agevolare l'impatto zero sull'ambiente? Sì, il treno è un grandissimo strumento per poter ridurre l'impatto sull'ambiente del trasporto. Questa credo sia un'iniziativa molto importante perché consente assieme a due partner importanti, leader un pochettino in questo settore, di dare veramente il senso e una risposta alla domanda che abbiamo continua dalla nostra clientela di avere sempre più prodotti ambientalmente compatibili. Possiamo spiegare meglio di cosa si tratta questo progetto? Si tratta della possibilità per i clienti che usufruiscono già di versare il treno che è un vettore particolarmente rispettoso dell'ambiente anche arrivando nei centri urbani di Roma piuttosto che in Milano di poter usufruire di una vettura elettrica quindi con una compatibilità ambientale veramente assoluta e senza inquinamento. Quindi è un servizio che viene dato alla clientela, verrà proprio accompagnata dall'arrivo del treno fino alla vettura e potrà girare tranquillamente per la città senza assolutamente produrre inquinamento.